Andicappata Andicappata Sopra filmato Si Scusa, io voglio vedere quello che patino No Ah, che gusto Ah, che gusto Ah, che gusto No, almeno Ah 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 Ragazzi sarete felici di sapere che questo è stato filmato E non va bene Ah 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 Mitico Ah Oh Ah 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 Oh Okay che cosa fa? no non c'entro sotto 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 sotto